Ricollegandomi sempre alla questione degli Stati Uniti e della Corte Suprema, vi chiedo anche un commento sulla proposta di Joe Biden di questa riforma della Corte Suprema che prevede di limitare il mandato dei giudici a 18 anni e contestualmente nominarne uno ogni due anni. Cosa ne pensate? Può essere una soluzione a quel problema di cui parlavamo prima? La sostanza della proposta, soprattutto sul mettere un limite alla durata del mandato, a mio parere è ragionevole. Il problema è quando vengono fatte queste proposte e il tipo di dibattito che possono suscitare, perché alla fine quando il professor Cassese prima segnalava la riforma immaginata da Roosevelt sul packing the court, cioè allargare il numero dei giudici per poter aumentare la composizione e renderla meno omogenea, si arrestò e non presentò mai quella proposta, non fu mai approvata, perché sarebbe stata una riforma sospettata di essere parziale, fatta cioè per riequilibrare la composizione politica della Corte e metterci dei giudici più favorevoli alla presidenza in corso. Ecco, io credo che le riforme che riguardano i giudici non debbano essere mai sospettabili di faziosità, perché se c'è un principio che va preservato negli organi giurisdizionali è quello della loro indipendenza. Allora una riforma come quella di Biden nella sostanza giusta presentata adesso, secondo me è molto rischiosa, proprio perché avrebbe con sé il sospetto, porterebbe con sé il sospetto che è una riforma fatta dagli organi politici per togliere di mezzo una Corte in questo momento ostile a chi sta governando. Lo vedo molto pericoloso.